Salve a tutti, voglio farvi vedere il risultato di una impermeabilizzazione su una capote trascurata ormai da praticamente dieci anni. Il proprietario proprio non l'ha mai trattata, pulita e impermeabilizzata. Vi faccio vedere il risultato dopo aver applicato diverse mani di impermeabilizzante specifico per le capote. Adesso può tranquillamente affrontare i mesi invernali senza problemi.